La Regione Abruzzo chiederà il risarcimento dei danni anche nei confronti dell'ex Assessore alla Sanità Vito Domenici e dell'ex Presidente della Fira Giancarlo Masciarelli, imputati nell'ambito del procedimento penale su presunte tangenti nella sanità. Lo ha assicurato il Presidente della Regione Gianni Chiodi rispondendo in Consiglio regionale oggi all'interpellanza dei consiglieri PD D'Amico e Caramanico. Con la Costituzione di parte civile, ha spiegato Chiodi, la Regione ha avanzato nei confronti di tutti gli imputati richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non morali e materiali dagli stessi causati all'amministrazione regionale. Questa richiesta è stata seguita laddove possibile da istanze di sequestro conservativo dei beni degli imputati medesimi. Chiodi inoltre ha spiegato che l'Avvocato della Regione Abruzzo ha condotto accurate indagini per accertare la consistenza patrimoniale di ciascun imputato. In particolare per quanto riguarda Vito Domenici e Giancarlo Masciarelli è emerso che quest'ultimo risulta comproprietario di un terreno di 120 metri quadri nel comune di Tarantapeligna mentre Domenici non risulta presente negli atti informatizzati del Catasto terreni e fabbricati su scala nazionale. Da qui, secondo quanto riferito dal Presidente Chiodi, considerato che l'immobile di proprietà di Masciarelli ha un valore economico insignificante in rapporto a quella che è la richiesta e che non si sono rinvenuti beni in capo a Domenici, l'Avvocato ha negativamente valutato l'utilità di avanzare istanza di sequestro conservativo. Questo non significa, ha concluso Chiodi, aver rinunciato a perseguire il risultato dell'integrale ristoro del danno con ogni rimedio reso possibile dall'ordinamento.